Buon sabato a tutti, ben ritrovati a Leoni da Parquet, ci fa piacere festeggiare oggi la decima puntata dall'inizio di questo contenitore sportivo, anche con una nuova scenografia, la vedete alle spalle, abbiamo cambiato un po' di cose, spero che insomma siano di vostro gradimento. Subito il saluto agli ospiti di questa decima puntata, il più giovane del gruppo, Lorenzo Dell'Anna. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti, ciao Matteo, buon pomeriggio. E ovviamente anche a giornalista, ma anche interno di Gemma, responsabile di statistiche, lo avete già visto, Raffaello De Maio. Ciao Matteo, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. E allora, puntata importante perché dall'ultima volta che ci siamo ovviamente visti sui nostri canali social sono cambiate un po' di cose, ci sono state due partite, quella con Crema che ha riportato Gemma al successo, quella con Brianza, tra poco l'andremo anche a commentare, dove il finale sicuramente non è stato quello che Gemma avrebbe sperato, ma con ampi vantaggi che poi non hanno portato i due punti. Subito però direi di iniziare, come di consueto nel caso di Lorenzo, che non è di Montecatini, ha già girato un po' di piazze, ma l'ambientamento, Lorenzo, come ti stai trovando a Montecatini e come ti stai trovando, direi, nel contesto della squadra. Direi che a livello tecnico mi sembra piuttosto bene sul fronte dell'impatto in città, dicelo te Lorenzo. No, sicuramente, è una città bellissima, splendida, mi trovo veramente bene, cioè veramente un'ottima città, bellissimo anche a livello di tifosi andare al palazzetto e incontrare un pubblico così caloroso. Anche perché, ne parlavamo un po' prima della puntata, vieni da un paesino piuttosto piccolo, spiegavi, sono 4.000 abitanti, Arnesano, provincia di Lecce. Provincia di Lecce. Ecco, quindi, insomma, è un impatto, non arrivi dalla città magari dove hai dovuto cambiare dimensione, questo forse un po' ti ha aiutato anche nelle altre piazze dove sei stato, Trento, poi ne parleremo, oppure magari cambia meno? No, beh, sicuramente mi ha aiutato, sono già fuori da un po', quindi diciamo che so come funziona essere distanti da casa e so come funziona appunto essere magari, sai, arrangiarsi da soli e andare avanti. Lorenzo, classe 2004, sei insieme a Matteo Corniati, praticamente un po' il cucciolo, il cucciolo di questo gruppo. Raffaello, la parola anche a te, ovviamente da giornalista di lungo corso con il Tirreno, mi piacerebbe intanto inquadrare quello che secondo te è cambiato a livello girone di andata, girone di ritorno. Cinque partite fatte nel ritorno, secondo me stanno cambiando molte cose. Non che prima fosse facile giocare, ma qualcosa sicuramente con gennaio, mi sembra si possa dire che al di là delle squadre rinforzate, ma l'intensità se era alta adesso o ancora di più? Non so se sei d'accordo. Sì, sì, sono d'accordo. Prima di tutto il mercato ha cambiato molto gli equilibri perché le avversari, soprattutto della Gemma, hanno più o meno puntellato la proposta squadra, ma io credo che importante sia stato anche il lavoro di scout, diciamo che le singole società hanno potuto fare dopo aver visto 17 partite di gioia d'andata, quindi conoscendo poi i punti deboli, i punti forti di ogni singola squadra e nel nostro caso aggiungerei che c'è stato un calo atletico e fisico abbastanza marcato, che è coinciso con la fine di gioia d'andata e l'inizio del giorno di ritorno, che ha fatto venire fuori anche il pensiero che la squadra possa essere diventata un po' prevedibile. In realtà secondo me era solo un problema fisico, un problema mentale, infatti la partita con Crema ha dimostrato che la squadra può uscire nettamente dalla crisi. Ecco, visto che allora è già stata citata la partita con Crema, grazie a Vito Perillo, il consueto ringraziamento per il preziosissimo lavoro di regia. Queste sono le immagini di una partita, torno da Lorenzo, che ha ridato a Gemma due punti, di cui aveva grandissimo bisogno, dopo un momento, come diceva Raffaello giustamente, non semplice, contro un avversario che però si è dimostrata, non dico più ostica di quello che ci si attendeva, perché sapevamo, credo, un po' tutti, era una squadra di grande garra anche, no? Crema, esattamente un po' come all'andata, Lorenzo, non so se sei d'accordo. Sì, certo, all'andata diciamo che abbiamo subito un po' un loro impatto e al ritorno ovviamente non ci aspettavamo di me, non ci aspettavamo diversamente. Infatti abbiamo subito approcciato la partita nel modo giusto, giocando di squadra e tenendo duro in difesa e poi pian piano, per questo solo processo, abbiamo iniziato appunto a andare avanti e abbiamo portato appunto due punti a casa. Ecco, Raffaello, partita con crema, dicevamo, importante per ridare un po' di slancio in classifica, Gemma momento ha 26 punti, sempre il quarto posto, perché poi alla fine è vero che un po' di terreno a livello di sconfitta è arrivato, ma di classifica è cambiato poco rispetto a prima. Dicevamo di questa partita con crema che secondo me non era affatto scontata. No, non era scontata soprattutto per il momento in cui veniva la squadra, infatti ha dato una grande risposta a livello fisico, a livello mentale, ovviamente però bisogna vedere la situazione diciamo nel suo complesso, cioè la Gemma ha perso 5 delle ultime 7 partite che ha giocato, quindi la classifica alle sue spalle si è compattata, cioè le avversarie che ora sono in corsa per la salvezza, per i playoff, insomma diciamo, andiamo una cosa per volta, sono diventate 8. Quindi il problema adesso è che bisogna guardare più risultati, ma la Gemma ha ancora il grande vantaggio, grandissimo vantaggio di fare la corsa per conto suo, nel senso che è artefice, ci mancherebbe altro, del proprio destino. Ci sono ancora tanti sconti diretti da giocare, alcuni in casa, io credo che la partita di sabato scorso a Brianza è stata diciamo un po' un episodio che finita a modo sfortunato, già dalle prossime due partite in casa con Caserta e Salerno che saranno poi inframmenzate dal debito di Livorno, Montecatini potrebbe tornare a cogliere quei risultati positivi in casa che possono dare gli ulteriori slanci in classifica. Queste sono proprio le immagini della sfida di Treviglio contro Brianza, Gemma che aveva accumulato anche importanti vantaggi, era arrivata quasi a più 20, insomma una situazione a quale non era esattamente più abituata, qualcosa è mancato nel finale da un punto di vista dei fischi arbitrali e questo è un tema che forse può diventare anche un po' stucchevole perché ripetitivo, mettiamola così, però già ma devo guardare anche un po' a dove migliorare, Lorenzo, in qualche fase è mancata, si torna un po' sul concetto della lucidità magari. Sì certo, siamo stati appunto in quella partita, abbiamo iniziato bene, abbiamo preso bel margine su di loro e anche nei momenti in cui magari loro ritornavano e si facevano sotto, noi siamo stati bravi a riprendere vantaggio, diciamo che in un momento della partita c'è stato un appannamento generale e quindi si sono un po' ritornate alla partita punto a punto e da lì siamo arrivati al finale che appunto ci ha portati a perdere di un punto. Gemma che però era tornata anche a più 10 nel quarto periodo, Raffaello, poi viene da dire un fischio in particolare su Corniati probabilmente ha cambiato anche un po' l'inerzia, però mai come dire non esiste controprova di come sarebbero andate le cose in maniera opposta, poi sono arrivati anche ad un'altra serie in un antisportivo, insomma situazione che si è complicata anche a livello di lucine dei falli, non semplice mantenere i nervi saldi e finale in cui è mancato qualcosa, Raffaello. Sì, è mancato un po' di lucidità, mi ricordo un paio di canessi da sotto sbagliate in maniera anche abbastanza banale, poi c'era fallo, non c'era fallo, se ne può parlare all'infinito, le decisioni arbitrali sono state sicuramente penalizzanti, però abbiamo avuto lo stesso la possibilità di poter vincere la partita, questo credo sia l'aspetto più importante, cioè è chiaro che alla fine determinati fischi hanno condizionato, però la partita ce l'abbiamo giocata fino alla fine e io non sottovaluterei il 14 su 22 i tiri liberi, perché nel momento in cui Brianza era lanciata verso la rimonta, se l'altra squadra continua a sbagliare i tiri liberi dai sicurezza all'avversario che cerca di rimontare, quindi questo potrebbe essere stato un aspetto anche che alla fine ha inciso. Poi è chiaro abbiamo perso di uno perché Lorenzo ha fatto un miracolo da metà campo allo scadere, però credo che ci siano, secondo me rimangono tanti rimorsi per questa partita persa, ma non solo per l'apritraggio, ma per aver buttato per l'occasione. Era un'occasione anche di mini fuga, sempre al quarto posto ci sarebbe stata una distanza. 2-0 riscontri diretti. Esattamente, ci sarebbe stato 2-0 riscontri diretti, anche se rimane la differenza canestri favorevole nel caso di Brianza. La classifica, perché già un po' la accennavamo, si è accorciata le tre in testa che proseguono Fabo, Piel, Libertas, Gemma solo a 26, dietro c'è Brianza, c'è Piombino che ha vinto nettamente in casa, c'è Sant'Antimo che è andato a vincere a Salerno. Tra poco ne parleremo, Salerno è l'avversaria di domani, Lorenzo, insomma già possiamo un po' introdurla, è una partita da vincere, questo credo vada un po' sia quasi banale scontato dirlo. Beh sì, ovviamente tutte le partite cerchiamo ovviamente di portarla a casa e prepariamo per portarla a casa, non bisogna ovviamente sottovalutare un avversario come Salerno che magari può ingannare per la sua posizione in classifica, noi cercheremo comunque di dare il massimo e comunque di non sottovalutare l'avversario, anche perché quando si sottovaluta l'avversario spesso. Sì, non è mai una buona cosa. Andiamo a vedere anche un attimo i risultati dell'ultimo turno in particolare che era il 22esimo, eccolo qua. Raffaello, qualche sorpresa, qualcosa che non ti aspettavi? La butto lì. Sicuramente la vittoria di Caserta a Omegna. Ecco. Diciamo il risultato più eclatante ma ricordiamo che Caserta ha battuto la settimana prima la Fabo facendo una grande partita e mostrando di essere migliorata parecchio sotto tanti aspetti grazie soprattutto al mercato. Perché la sensazione che in questo momento la classifica a volte, diciamo, dia anche dei valori falsati rispetto al momento di forma della squadra. Torniamo un po' a quello che si era visto fino all'andata e quello che invece si vede adesso. Questo un po' Raffaello. Sì, assolutamente. Mentre mi ha sorpreso, diciamo, la resistenza di Fiorensuola sul campo della PL, che poi alla fine la PL è stata costretta a vincere quasi all'ultimo tiro. I cinque punti di distacco sono nati per il gioco dei tiri liberi. Però credo che la vittoria anche di Legnano a Desio rilanci in qualche modo la squadra Lombarda, che si trova in una posizione di classifica che probabilmente non si aspettava perché è undicesima con dieci vittorie e due sconfitte. E questa sarà una squadra sulla quale bisogna fare molta attenzione. Grande fortuna la nostra e quella di avere il vantaggio di sconti diretti con Legnano. Assolutamente. Gemma che in questo momento ha proprio il 2-0 con Legnano. Il momento di una piccolissima pausa. Lo spazio anche ai nostri spot. E poi ripartiamo sempre con la seconda parte di Leone da parchetto. Da oltre 30 anni ci occupiamo di progettazione e realizzazione di impianti, di filtrazione e depurazione dell'aria, utilizzando tecniche innovative e all'avanguardia. I nostri impianti vengono progettati nel pieno rispetto delle normative ambientali vigenti, seguendo ogni tipologia di esigenza specifica. Provediamo all'installazione degli impianti, seguendo ogni fase con attenzione, distinguendoci da sempre per la qualità dei materiali utilizzati, la capacità di progettazione, la cura nella realizzazione e la disponibilità in fase post-installazione. Fondata nel 1999, PLS Consulting è una società indipendente che offre servizi di consulenza specializzata per l'ottimizzazione, la gestione e il controllo dei consumi energetici, dei processi industriali e attività di efficientamento energetico. Grazie all'esperienza maturata in 25 anni di attività e ad un team con competenze altamente qualificate, PLS Consulting è in grado di effettuare un monitoraggio costante del mercato dell'energia, degli indici di riferimento e delle leggi in materia, con l'obiettivo di scegliere le migliori soluzioni contrattuali per i propri clienti ed abbattere i costi gestionali. Il servizio di consulenza di PLS Consulting permette una gestione più consapevole del rischio della volatilità dei prezzi. Ci occupiamo della vostra salute e del vostro sorriso dal 1997. Nel nostro studio siamo dotati di ogni tecnologia di ultima generazione, panoramico con TAC, con BIM, scanner intraorali per prendere impronte e ostiche, presatori e stampanti STD, software CAD-CAM che ci consentono di consegnare protesi a carico immediato anche in giornata. Ci occupiamo di ogni aspetto dell'odontodiatria, igiene e prevenzione, parodontologia, conservativa ed endodonzia, protesi fissa e immobile, chirurgia ed implantologia, ortodonzia, trattamenti estetici, cosmetici e thriller, prestando la massima attenzione alla disinfezione e sanificazione dei locali in cui vi accogliamo e dai processi di sterilizzazione degli strumenti utilizzati. Ben ritrovati alla seconda parte di Leonida Parquet nella sua decima puntata. Prima di andare a parlare della partita di domenica, quella con Salerno al Palaterne alle 18 e poi anche delle successive perché è già tempo di un turno infrasettimanale a Livorno, mercoledì sera alla sera di San Valentino contro la Libertas, piccolo passo indietro. Andiamo a sentire quello che ha detto in conferenza stampa dopo la partita con Brianza, il coach Marco Del Re. I primi due quarti siete stati molto bravi a concedere poco e a non far correre Brianza, che è uno dei suoi punti forti. Poi forse nel proseguo del match avete perso un po' quel gioco corale che aveva contraddistinto nelle prime fasi e vi siete affidati un po' di più alle soluzioni più individuali. Sì, tutto vero, tutto vero. Noi arrivavamo a questa partita con Passoni in dubbio, Mastrangelo in dubbio che è rientrato da una lesione muscolare facendo un allenamento ieri e quindi sono contento del fatto che anche Corniata aveva avuto un problema al femorale. Sono stato contento del fatto che siano stati della partita. Stiamo provando a riavere la squadra al completo che fino ad oggi si è allenata cinque volte dal 17 di agosto. Sono contento del primo tempo fatto, anche se abbiamo concesso troppo nel secondo quarto, dove Brianza ha ridotto un po' il gap. Loro chiaramente più bravi nello sfruttare i nostri errori, hanno provato a metterci in difficoltà anche con difese tattiche, questo però lo sapevamo. Diciamo che quello che ci ha portato a perdere la partita sono stati tre canestri fatti da noi in attacco e tre pessime difese sulla transizione che hanno concesso a loro più punti dei nostri fatti e lì sono rientrati a contatto. Così allora, coach del re, coinvolgo subito Lorenzo Dell'Anna perché si parla di errori a livello difensivo, è mancato un qualcosa nel momento in cui la squadra poteva allungare ed è un errore da non ripetere già nella partita con Salerno, ovviamente contro una delle capoliste come la Libertas Livorno. Poi domenica prossima ci sarà anche Caserta, c'è davvero un tour de forze che arriva, la concentrazione massima ovviamente con l'importanza anche di andare a recuperare fisicamente. Questo credo sia un aspetto basilare, Lorenzo. Sì, certo, parlando appunto della partita contro Brianza, purtroppo nel momento in cui dovevamo dare l'ultima botta per appunto prendere largo vantaggio abbiamo avuto un down mentale che appunto ci ha portato a fargli entrare un attimo in partita. Ovviamente non è una cosa da rifare, appunto ce la riniamo ogni giorno per far sì che questo non accada più e anche perché poi le prossime partite, soprattutto poi quella contro Livorno, contro una squadra comunque abbastanza tosta, non sono errori da commettere ma bisogna essere al 100%, soprattutto in settimane in cui l'intensità e le partite sono a distanza di 3-4 giorni. Ecco perché il calendario si infittisce, domenica Salerno, poi Libertas Livorno in trasferta, diciamo uno delle più comode forze possibili da un punto di vista solo logistico però, e poi nuovamente Caserta che invece, dicevamo prima, la classifica dice una cosa ma il momento di condizione Raffaello tutt'altro. Insomma è veramente un altro mini tour de force questo. Sì, non bisogna correre il rischio di sottovalutare soprattutto Salerno e Caserta perché guardando la classifica una è penultima e l'altra è l'ultima ma questo è il più grosso errore che in questo momento la Giamma potrebbe fare. Il derby di Livorno ovviamente non verrà sottovalutato perché Livorno è prima, poi è un derby quindi è una partita molto importante. Quasi incostibile da sottovalutare. Esatto, poi secondo me nei ragazzi, ne parlavamo anche prima con Lorenzo, c'è ancora un po' di rivalza rispetto a quello che è successo all'andata dove la Giamma ha perso di 6 punti ma sbagliando una caterva di tiri liberi. Quindi magari c'è anche un po' una voglia di vendicarsi, tra virgolette, sportivamente parlando, magari sperando che sia la volta buona di poter essere tutti al completo ma affronterò una partita alla volta. Quella di Salerno è già una partita molto complicata perché Salerno viene qui senza niente da perdere anche perché la zona play-out è ancora lontana e deve fare tanti punti per risalire. A maggior ragione Caserta che in questo momento sembra la squadra più in forma di campionato. Proprio così. Parlamamo allora di questa situazione un po' da, diciamo, la squadra che si sta riallenando, come ha detto Del Rey, una delle pochissime volte quasi al completo di aver recuperato Mastrangelo con un Simone Angelucci che ci auguriamo a breve possa riprendere anche spazio non solo in allenamento come ha ricominciato a fare dopo l'operazione ma anche in partita. Parlavamo con Lorenzo che è uno dei ragazzi più giovani nel momento del gruppo assieme a Matteo Corniati allora è anche momento però di andare a parlare proprio del settore giovanile di, diciamo, pallacanestro Montecatini, tra poco poi anche con tutto quello che rappresenta il giovanile proprio per Lorenzo. Qui cominciamo dall'under 19 perché rivediamo uno dei momenti in cui sono stati presentati un po' tutto il settore, qua vediamo anche l'under 14, con i risultati. I risultati che sono arrivati nell'ultima settimana, una doccia calda, diciamo, una fredda, vittoria, importante per la formazione di Billeri, 75-53 in trasferta contro l'Etrusca a San Mignato, qui parliamo dell'under 19 gold, è andata decisamente meno bene per l'under 14, squadra che comunque sta lavorando, come dire, in prospettiva, in costruzione, con Samuele Rastelli, la sconfitta con Viareggio, 91-36, anche credo con un po' le prossime sfide perché, per esempio, l'under 13, quella di Massimo Angelucci, che è stata abbinata per questa seconda fase con questo gioco anche simpatico alle franchise NBA e agli Utah Jets, debutta proprio domenica alle 9.30 contro la pallacanestro Campi Bisenzio, praticamente tra poco la sfida dell'under 14 contro Enders Pistoia, l'under 19 giocherà invece lunedì, come vedete, contro Biancorosso Empoli. Questo è anche il doveroso spazio per quanto riguarda, ovviamente, il giovanile. Io direi di tornare, però, a parlare anche del momento che riguarda Gemma, da un punto di vista, qui Lorenzo ti coinvolgo in quanto protagonista diretto, di questo nuovo, diciamo, modo un po' di lavorare, perché Del Rep spesso ha parlato di una rivoluzione anche non solo tecnica ma fisica in questa seconda fase. Cioè, la squadra sta lavorando diversamente in palestra, al di là dei problemi di infortuni che ci auguriamo, insomma, siano superati. Però la squadra sta lavorando davvero in un modo diverso, Lorenzo. Certo, c'è un'ottica ovviamente totalmente diversa, oggi, anche con il nuovo preparatore Sari Rosa, che appunto ci ha cambiato totalmente il modo di vedere un po' la palestra, ecco, diciamo, tutto in prospettiva di cosa poi si va a fare sul campo. C'è ovviamente un metodo di allenamento totalmente diverso, ma anche, per esempio, io personalmente trovo già dopo un mese degli enormi benefici e soprattutto sul campo riusciamo a fare diverse cose, riusciamo appunto a magari, non lo so, abbiamo cambiato un po' il modo di giocare il 5 contro 5 quando è possibile o di approcciarci allenamenti anche se sia in 4. Assolutamente, periodo questo abbastanza intenso. Mi piace anche citare un po' tutto quello che è lo staff medico, perché è quella parte di società di cui uno spererebbe di non avere mai bisogno. In realtà quest'anno direi che finora c'è stato anche un extra lavoro, qui parliamo del medico sociale Stefano Bianchi, ma anche ovviamente di Casa Rosa, che insomma è sempre una parte essenziale della società, ma anche poi della fisioterapia e quindi parliamo di Marco Poggio, di Jacopo Marmi, insomma tutta una serie di figure professionali, si diceva, di cui uno spera sempre di, come dire, vederlo meno possibile. Il medico in realtà c'è stato tanto bisogno. La speranza, Raffaello, qui parliamo anche della prospettiva di un campionato che, lo ricordiamo, non si conclude con 34 giornate che già mi sembrano tantissime, poi c'è un'ottica play-off, insomma. Voglio dire, è una stagione che potrebbe finire ampiamente a maggio, quindi ha bisogno ancora di tante energie e di tante forze fresche. Hai detto bene, il campionato finirà il 21 aprile, ma noi si spera che finisca oltre maggio. Questo vuol dire arrivare nelle prime otto. Nulla vieta che se dovessimo arrivare tra la nona e la dodicesima posizione non è che ci si taglierebbe le vene, insomma. Avremmo fatto ugualmente una grande stagione, però a questo punto, già che siamo stati nelle prime quattro, più o meno sin dall'inizio, se c'è da ballare, ci capirebbe continuare a ballare. L'appetito viene mangiando, si direbbe, insomma, in questi casi. È il momento anche, non ancora dei saluti, ma, come dire, dell'aspetto un po' emotivo, dell'aspetto anche del passato. Qui parliamo di un ragazzo giovanissimo come Lorenzo, lo diciamo ancora una volta. 20 anni, li compirai quando? L'11 maggio. Ecco, insomma, ancora non ci siamo, però ha già una carriera importante. Abbiamo ovviamente qualche immagine, grazie al nostro Vito. Qua mi piacerebbe che tu descrivessi te, Lorenzo, insomma, cosa rappresenta per te questa foto e che momento era della tua giovane, ma già intensa carriera, perché hai già fatto diverse esperienze, da Brescia, poi sei stato a Trento, e adesso, insomma, sei qua a Montecatini. Sì, allora, Brescia è stata la mia prima esperienza fuori, io parto via da... Qui dove eri? Qui ero a Brescia, giocavo a Brescia, ero nell'under 19 sotto categorie, ero il mio ultimo anno a Brescia, e lì Brescia è stata il mio, tra virgolette, la mia prima opportunità fuori dal Salento. Di crescita, sì. Quindi già 15 anni fuori di casa, inizio la mia prima esperienza, appunto, nelle squadre, appunto, comunque in campionati d'eccellenza, di un certo tipo come quello della Lombardia, e, appunto, inizio a capire un po' come funziona il mondo al di fuori, appunto, dello stare a casa, ma di stare in contesto di foresteria e di lavoro totalmente diverso da quello che a Mimmi si era mai presentato. Dove eri abituato, diciamo, nella tua patria, diciamo così. Esatto. Qua invece siamo... Qui siamo alla Next Gen, che dell'anno scorso era la prima tappa che si è tenuta a Pesaro, dove con la nostra squadra del 19 eravamo primi nel girone imbattuti e dopo poi è arrivata anche la seconda fase, dove, appunto, siamo comunque rimasti primi, ma con una sconfitta, dove, appunto, poi, purtroppo, arrivando alle final four, perdendo un nostro giocatore comunque importante, non si è riusciti ad andare avanti, però lo stesso. Questa è la maglia, ovviamente, di Trento. Qui, insomma, ti fai vedere il numero e qui, insomma, ecco, tipo, anche al tiro. Bella esperienza, Trento. Sì, questa è l'esordio dell'anno... cioè, esordio la partita dell'anno scorso in cui sono entrato in Euro Cup. Non è stata... Non si scorda mai, direi, però. No, infatti, anzi, l'anno scorso è andato piuttosto bene, giocando, entrando quattro volte e quattro volte provando il tiro. Purtroppo, ahimè, non è andata, però comunque esperienze indimenticabili che ti segnano. Eh beh, qua, insomma, mi sembra di vederti con una canotta abbastanza importante. Eh, sì, dopo il primo anno a Trento sono stato chiamato, appunto, a fare l'Europeo Izmir con la Nazionale, qualificandoci sesti a un passo dalla, purtroppo, non arrivata qualificazione al Mondiale, però comunque un'esperienza che comunque è una volta che rappresenti la tua patria, diciamo, comunque, in Italia c'è un'esperienza. Complimenti, solo complimenti. Raffaello, non credo che tu possa vantare questo tipo di esperienze. Ho una collezione di maglie, però ce l'ho, ecco. Però, la collezione di maglie. No, però ti volevo fare una domanda importante, perché tante volte abbiamo parlato di quanto siete bravi. Mi piacerebbe tu citassi un po' tutti i ragazzi che capitani, diciamo, con le statistiche, anche perché è un settore basilare e secondo me di una difficoltà pazzesca. Mi piace sempre dire che la partita non la potete guardare, perché... Infatti le rivedo sempre il giorno dopo, perché le partite... Dobbiamo stare attenti a così tanti dettagli che non ce la godiamo, però, insomma, sappiamo di recitare un ruolo importante. Citiamoli, ragazzi. I ragazzi sono, allora, Leonardo Spinetti, che ultimamente stiamo introducendo per, diciamo, fare quello che digita, quindi ancora più responsabilità, che è il figlio del nostro dirigente Alessandro Spinetti. Poi abbiamo Damiano Facchiano, che è una grandissima spalla, ragazzo che sta imparando. E poi un altro validissima spalla che è Gabriele, il cognome Sordi, esatto, che sta migliorando tantissimo, ha acquisito grande sicurezza e loro tre siamo un quartetto molto molto ben affiatato, ma ora io mi faccio un po' la chioccia e ho mandato loro tre, diciamo, alla battaglia e sicuramente da questo punto di vista se i ragazzi continueranno a avere questa passione per le statistiche siamo coperti bene. Una battaglia importante, ovviamente la società conduce su più fronti, ricordando l'impegno di domani, domenica contro Salerno, il primo di due domeniche consecutive, ancora una squadra campana, caserta, inframezzato dal tour infrasettimanale. Siamo davvero adesso saluti di questa decima puntata di Lioni da Parquet, mi fa piacere che il pubblico ci stia seguendo sempre anche maggiormente con interesse e io ringrazio chiaramente chi è stato con noi oggi a cominciare da Lorenzo Dell'Anna, non so se vuoi salutare qualcuno. Saluti prima di tutto i tifosi e vi aspetto al palazzetto domani per appunto poter gioire insieme per una vittoria. Bravo Lorenzo, grazie anche a Raffaello De Maio. Grazie a te Matteo e anche io lancio un appello ai tifosi che vengono sempre più numerosi e soprattutto credano in questa squadra perché stiamo entrando nel momento decisivo della stagione e i ragazzi hanno bisogno di tutto il nostro apporto. Questo allora anche il caloroso appello, il ringraziamento che va in regia a Vito Perillo, come sempre preziosissimo con il suo lavoro, per quanto mi riguarda. Appuntamento alla prossima puntata di Lioni da Parquet. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.